Fino al 15 ottobre nella sede della Biblioteca della Regione è visibile la mostra Eccellenze del Piemonte, vecchie pubblicità di carte di latta 1900-1960 che espone scatole di latta, disegni, colori, etichette, targhe pubblicitarie di aziende e prodotti che in poco più di un secolo hanno reso famoso il Piemonte a livello internazionale e che hanno aglietato le tavole di mezzomondo. La mostra Immagini del Piemonte, dall'unità alla Prima Guerra Mondiale, espone opere pittoriche di una ventina di artisti che attraverso episodi di storia e quotidianità raccontano tra il 1861 e il 1914 il Piemonte e le sue comunità locali nei vari aspetti culturali, storici, artistici, politici e sociali. È visibile fino all'8 ottobre presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino.